Musica Onorio, attenzione a Fortini, parte il tiro, la parata in due tempi. E con di puntone Borrutto ha provato di sorprendere nuovamente la retroguardia del primo tempo. Attenzione Belsito, a tu per tu con le spindola, poi ancora il pallone, Giapa! Sutton, Sutton, Cuzzolino su di lui, cerca di superarlo, parte il sinistro! Che da fuori per Canale, grandissima la parata di Pietrangelo! Ancora a taborda in mezzo, Canale, Canale, prova il tiro, la grandissima parata! Clamorosa da parte di Pietrangelo! Si può battere questo calcio di punizione, Murillo la tocca per Caponigro! La parata di Casassa! Salla per poco non la fa sua, Calderolli, 3 contro 1, Trentin, Murillo! Casassa a dire di no! Mentre Dalcin va in uscita alta, Murillo possibile 2 contro 1, Murillo va a calciare quei piedi! Ah, è ancora del Ciampinani e la palla va al tiro! Wilde, chiama palla Caponigro dall'altro lato, Pescolo serve, Caponigro! Ciude in spaccata a Casassa! In avanti per Bissoni, arriva Murillo! Il pallonetto ha salvato ancora una volta Casassa! Occhio però qui al contropiede, spinto da Marcellinio e Nicolodi, ancora Nicolodi dentro per Marcellinio! Fiusa, strepitoso, con i piedi, guadagna anche la rimessa dal fondo! Marcellinio che gli sfila il pallone, Marcellinio in contropiede, Fiusa ancora una volta a dirgli di no! Marcellinio all'indietro, per tres, Fiusa, il pallone che resta lì, incredibile! Si salva il Simbios! Marcellinio, grippi, pallone per Dimash, che calcia ancora! Poi Cimanghigno due volte, Luan Fiusa, ancora protagonista! Fargo per Lolo Suazo, Ramon, la finta, adesso ci prova con il destro, Mammarella si oppone! Ancora la conclusione di Uguerani, il miracolo di Mammarella che è parata per il portiere nazionale! Lolo Suazo che adesso porta, spasso il pallone, lo scarica dal Cina, attenzione! Ancora dentro e si salva Mammarella su un possibile autogol, credo! Andre Ferreira! Misel! Buono il lavoro! Splendida quest'azione con Ghi, ma c'è anche uno strepitoso Tiago Perez tra i pali! Giornata del campionato nazionale! Tanto distrazione colossale della difesa della Sandro Abbate! Cocco Wellington, parte col mancino, sinistro Tiago Perez, la vede arrivare alla fine! Dentro è la grande risposta di Mammarella su Pazzetti! Ghi! Destro, la deviata Tiago Perez! Si gira, sparo Weber! Attenzione a Santos, attenzione a Giossete che va via! Dovara! Cosa ha preso Dovara? Matamoros si gira, calcia Weber, respinge! Musumeci, secondi che scorrono, prova la conclusione, no Campoi! Matamoros, Weber cosa ha preso? Campoi, pallone fuori! Barra, buona azione del Lido, ci prova il capitano con il mancino! Monte Falcone in qualche modo riesce a bloccare Salas, sguscia via con la sua qualità! Giocata del 28, tunnel su Barra, arriva Leandro che rischia, allora Salas! Di Ponto respinge la prima occasione del Real San Giuseppe! Sempre il capitano del Lido, di Ponto con i piedi, lancio lungo, Navarro, il petto, Navarro, giocata! Monte Falcone a dire di no, Cutrupi poi, sopra la traversa, Micheletto! L'ex Mantova, aggredito, torna da bocca, che salta Leandro, cambia lato, Patias! Murato da una grande uscita di Edoardo Di Ponto! Il capitano ricomincia da Oselito, Petrov sulla sinistra, Esposito, poi Cutrupi! Monte Falcone, straordinario, con il piede sinistro! Poi Oselito, profondità, Patias, salva Di Ponto, strepitoso Di Ponto, Micheletto ancora Di Ponto! A preservare l'1-1! Il Lido riparte, Cutrupi se ne va, Cutrupi! Monte Falcone, due volte, portieri protagonisti! Tagoristi! Grazie a tutti